Era il 1994 quando il mondo faceva la conoscenza di Forrest Gump, il goffo e ingenuo ragazzone interpretato da Tom Hanks che seduto su una panchina raccontava al mondo la sua incredibile storia. Una storia che ha fatto commuovere ed innamorare tutti e ancora oggi, a distanza di 20 anni esatti, continua a farlo. Il film, diretto da Robert Zemeckis, vinse 6 Oscar e sfiorò il record delle 14 nomination di Eva contro Eva e Titanic. Alcuni dei modi di dire di Forrest nel film sono entrati a far parte del linguaggio comune e in America esiste anche una catena di ristoranti ispirata proprio alla pellicola. Nella serata di ieri su Rete4 il film è tornato sui piccoli schermi e subito è stato boom. Forrest Gump infatti è entrato nei trend Twitter e moltissimi sono stati tweet commossi di apprezzamento, tra cui leggiamo. In Forrest Gump c'è l'amore che tutti vorremmo vivere, quello per una donna, per un amico, per il prossimo e per la vita stessa. O ancora, Forrest Gump è quel tipo di film che hai già visto 683 volte ma che ne rivedresti senza problemi per altre 683. Forrest Gump infine è uno di quei rari film che mette d'accordo tutti, infatti nessuno può dissentire dal fatto che sia un capolavoro.